buonasera a tutti ragazzi in questo video parleremo bene di cosa del 76esimo episodio di dino hunter e vedremo cosa potremmo fare in questo episodio buona visione benvenuti ragazzi soltanto questo dovevamo potenziare ragazzi vi ricordate di questi qua questo qua get your vision no forza no perfetto ok abbatti quattro strutti o mimi vabbè possiamo farcela ragazzi anche senza dai no ah e me lo sono perso bravo ah questo volevo visto questo qua volevo ragazzi perfetto lambeosauri continuiamo almeno tre qui eh ma che no ma che niente aspettate questo volevo visto ragazzi vedrò cosa posso fare nodosauri tre nodosauri d'accordo perfetto vediamo ma stanno venendo da questa parte eh ragazzi perciò ce n'è strada forza forza avanti buono andiamo andiamo forza abatti cinque tupu xwara otto cio nove altri tre partiti abbiamo completato la serie archi ma che schifo ragazzi qua aspettate se lo colpisco lui viene ro facciamo in fretta questa cosa il tempo non è all'infinito sapete non è all'infinito il tempo quattro a posto perfetto altre due partite mi sembra c'era la pubblicità ragazzi cinque austro raptor eh cinque cinque ne devo abbattere vediamo cosa posso fare no ma manco il tempo ma che schifo questo volevo beh due partite ma non le ho registrate va bene adrosauri quattro adrosauri qua ragazzi ma che schifo di arco a questo e mai visto era semplice ce la potevo fare visto che ce la potevo fare benissimo anche senza i potenziamenti se era cinque non potevo farcela è semplice è stato due apatosauri aspettate perfetto andiamo due apatosauri non potevo farcela non potevo fare non potevo farcela così ora è Oh ma guardate Sta venendo semplice E' venuto a posto Pura fortuna è questa A posto ragazzi Benissimo Ora ci facciamo questo trofeo Il bandito Il fuorilegge Nooo Ah me ne sono liberato E' il mio regalo per voi Buon compleanno ragazzi Nooo ancora E' purtroppo così Il trismo Attenzione Nooo Nooo Adesso Usate tutto questo Controttempo Ma qua era complicato Due idra Dobbiamo abbattere E' purtroppo così Nooo L'idro ragazzi Ecco qua l'occhio Prendi questo E abbiamo sbloccato la serie fucile da caccia Eccoci qui ragazzi Ancora siamo a 13 minuti Ma ma guardate che figo fucile Niente potenziamento Ma Cioè guardate Che figo Apatosauri Ragazzi No ma qua Che è sta cosa Ah ma qua è vero E' questo Visto L'abbiamo distrutto 5 tubux Occhio che questi uccelli Sono pericolosi Ecco 6 istruzioni Faccio così Perché Sapete Poi da dove passano Prendi questo Prendi questo Prendi questo Prendi questo avete capito il motivo ragazzi per questo per arrivare al 15 oramai ecco i gorgosauri questi sono nel film di aspasso con i dinosauri ragazzi no niente aspettate un minuto avanti ragazzi ci sono riuscito ma grazie a quel coso d'accordo vediamo quattro lambeosauri oh ma no 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 ma guardate no ma aspettate ma questa è stata fortuna eh ragazzi no ma anche qua è divertente guardate da dove vengono ma attenzione eh due amargasauri boh vediamo poi che c'è eh questi sono gli amargasauri ragazzi non è ma Nooo, non è giusto Non è giusto Niente ragazzi Quando pare dobbiamo congodere qui Perché già sto perdendo troppo Ok? Il 76 Niente con Dino Under Ora staranno allentando i tempi Eh ragazzi Beh comunque Sbloccheremo la regione 19 Posseremo arrivare anche alla 20 Eh Prossim episodio Ok? Beh ragazzi Aspettate Speriamo che questo video Ovviamente di Dino Under Del 76esimo episodio Eh Facciamo 29 battute di caccia Se è piaciuto Scalcare mi accanto E tu per like Segui Instagram Ah Piccolo appunto 29 battute di caccia Semplice Completiamo la serie archi Serie archi E poi Sblocchiamo la serie fucile da caccia Ma arriviamo soltanto a 9 Comunque il video si conclude qui E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.